non chiederci la parola sempre dalla raccolta ossi di seppie un breve testo poetico come vedete si tratta soltanto di tre quartine anche questo è un testo manifesto c'è un testo in cui montale spiega la sua poetica le motivazioni della sua poetica e soprattutto chiarisce che la poesia non è più quello che è stato per pascoli o per denunzio cioè il poeta non ha più verità da trasmettere la poesia non è in grado di illuminare di dirci la verità e quindi lui comincia proprio primo verso dicendo non chiederci la parola lo dice il lettore però questo chiederci significa che montale non sta parlando della sua poesia soltanto della sua poesia ma è come se mettesse insieme tutti i poeti della sua generazione quindi chiede al lettore di non chiedere una poesia capace di chiarire tutte le la grande complessità dell'animo umano tutto ciò che c'è dentro l'animo umano i sentimenti le passioni non è in grado in pratica di farlo il poeta e soprattutto non è in grado di farlo in maniera luminosa chiara lui infatti dice non chiederci la parola che squadri cioè che disegni che riquadri in maniera geometrica razionale da ogni lato da ogni parte l'animo nostro privo di forma in forma e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco il croco ancora una volta il colore giallo il colore della luce dell'oro esattamente come i limoni anche però in questo caso il croco è un fiore estremamente umile non è un fiore esotico raffinato come quelli che potevano comparire magari in una poesia di dannunzio quindi guardate anche in questo la grande diversità perduto in un me in mezzo a un polveroso prato quindi non non chiedercelo perché noi non possiamo farlo non possiamo noi poeti rivelare la verità soprattutto in maniera chiara e evidente nella seconda strofa fa riferimento a un tipo di uomo tipo di uomo che c'era l'epoca di montale che ci sarà sempre quello sicuro quello che non si pone problemi quello che non ha nessun dubbio all'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro il sole non è più la fonte dell'energia ma è praticamente la forza che pone in rilievo proprio l'ombra la parte più negativa quello che spesso non si vede ma che è presente nell'uomo e non è qualcosa di positivo perché è l'ombra no proprio la luce del sole fa in modo che sia evidente sul muro scalcinato proprio l'ombra dell'uomo la sua complessità la sua malvegità e chi non è in grado di vedere quest'ombra chi non se ne cura colui che è soddisfatto perfettamente di sé non ha connubio vive tranquillamente la sua esistenza senza guardare il lato negativo che invece è ovvio c'è nella vita di ogni essere umano nell'ultima strofa ancora torna al discorso sulla poesia non domandarci la formula che mondi possa aprirti quindi la poesia come formula magica così era intesa da poeti decadenti simbolisti bene questa poesia non apre ad alcun mondo non c'è la possibilità se in alcuni poeti decadenti c'era questa possibilità qui non c'è più adesso la poesia che i poeti come un tale i poeti a lui contemporanei possono produrre è una poesia priva di musicalità sì qualche storta sillaba e secca come un ramo un ramo secco contorto morto una sorta di residuo tornate all'idea che questo è un testo poetico che fa parte di ossi di seppia quindi poetica dell'oggetto oggetto povero umile dimesso privo di vita e poi termina un tale codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo quindi è quella che si può fare è una poesia in negativo tenete presente siamo nel 1923 ormai la dittatura la dittatura fascista è una sta diventando sempre più una realtà il poeta ovviamente si sente prigioniero sa che non può fare nulla di concreto e quindi in un certo senso ha un ripiegamento in se stesso e quindi può dire soltanto ciò che non è ciò che non vuole essere non può dire nulla di ciò che vorrebbe essere perché ormai è privo di volontà quindi la poesia che non è in grado più di portare ordine nella caos dell'uomo la poesia che comunque qualcosa di luminoso anche se adesso non riesce più a creare una parola poetica così luminosa vorrebbe fosse così piena vitale ma non è così poi ci parla appunto il fatto che la società è fatta di tanti uomini conformisti decisi sicuro che non si pongono delle domande non perdono tempo vanno avanti per la loro strada e non si rendono conto dell'ombra che pure presente sul muro scalcinato la poesia quindi non è più formula magica ma è piuttosto un ramo secco quindi la poesia che montale realizzerà ha un linguaggio antimusicale priva di armonia e ovviamente non potrà più dire la verità perché polita è impotente in questa situazione vi mostro anche in nuovo alcuni elementi così ripetiamo mi raccomando non chiederci non chiedere a noi noi poeti quindi non parla solo di se stesso ma parla di tutti i poeti e i poeti che non sono più in grado di mettere ordine alla complessità dell'animo umano non possono racchiuderlo in in una verità assoluta e ancora qui la stessa cosa non domardarci sempre a noi poeti una formula magica una poesia che sia formula magica capace di aprire ad altri mondi non è possibile perché la poesia non può dire la verità e soprattutto perché non esiste un'unica verità quindi che cosa possono fare i poeti in questo momento possiamo soltanto esprimere ciò che non sono e ciò che non vogliono essere quindi cosa non può essere la poesia la poesia non può essere più qualcosa di luminoso ho detto l'immagine del cruco questo fiore giallo luminoso in un prato polveroso poi nella seconda strofa c'è questa critica al conformista all'uomo senza dubbi l'uomo che va avanti per la sua strada senza rendersi conto di quanto in realtà la sua ombra sia presente e pesante è grave non se ne occupa per nulla perché non ha dubbi la caratteristica in generale di tutta la raccolta e cioè il fatto che la poesia diventa povera anti musicale come un ramo secco prima di vita in contrapposizione alla bellezza alla gentilezza alla delicatezza e alla luminosità del croco e quindi insomma la sfiducia in generale nella poesia la poesia che non è più in grado di proporre messaggi positivi il poeta non è più un bate come d'annunzio come carducci come anche lo stesso pascoli anche se in maniera differente però comunque pascoli affermava che la poesia fosse una porta verso la verità una verità che era difficile da afferrare ma forse la poesia offriva una possibilità per montare questa possibilità non c'è più bene buon lavoro anche su questo testo